La registrazione? Allora, ci siamo? Vediamo un attimo. Ok, sembra che sia partita. Ok, possiamo andare? Il motivo è semplice, è uno e unico, è l'unico partito. Stiamo domandando ai cittadini la motivazione di perché comunque sostenere il movimento, sostenere e votarlo. Sostenere e votare il movimento 5G perché è l'unico partito che ha fatto con i fatti saluati i soldi a Indasac e la misola a disposizione del popolo, cosa che nessuno ha fatto e farà mai. Quindi è l'unico partito credibile a parte di tutto il lato partito. Non c'è nessuno che non è stato calente e si ripresentano continuamente, sono solo dei ladri. Ecco, è il motivo perché bisogna votare 5 stelle. Grazie, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie di avervi conoscito. Grazie, arrivederci. Ma che appoggiare in piedi, noi stagliate, stagliate. Grazie. Non vengono a lì.